Tutto ciò che non osservi non esiste. Lo sanno pure i bambini quando si coprono gli occhi davanti a quello che non vogliono vedere ed immaginano con altri occhi. Lo sanno i bambini quando si tappano le orecchie davanti a quello che non vogliono sentire e cantano con la loro voce. Lo sanno i bambini che quando non vogliono che qualcosa venga detto, tappano per prima la loro bocca e non quella degli altri. Lo sanno quando non fanno quello che non deve essere fatto e fanno solo quello che deve esserlo come deve esserlo. Che silenzio, com'è il suono della mia voce.